Buongiorno a tutti, vi ringrazio di vero cuore per l'invito che mi avete rivolto e in particolare ringrazio gli organizzatori, il presidente Ferrieri e tutti i giovani innovatori che partecipano oggi a questo splendido evento. Purtroppo impegni istituzionali non mi hanno permesso di poter essere lì con voi in prima persona, ma ci tenevo a farvi pervenire un mio pensiero, un mio saluto su un tema così importante e per me sentito. Occasioni come quella odierna sono a mio avviso l'infa vitale per il nostro sistema produttivo, specialmente nell'ambito dell'innovazione. Secondo il quadro europeo di valutazione dell'innovazione 2019, l'Unione Europea si è resa leader mondiale nel campo dell'innovazione stessa, mettendo in campo investimenti importanti che ci hanno permesso di ottenere una performance del settore persino migliore di quelle statunitense. Infatti, secondo l'analisi della Commissione stessa, fattori come l'innovation friendly environment, il sistema di ricerca attrattivo, l'investimento privato e il supporto pubblico hanno determinato un superamento da parte del sistema OE rispetto a quello degli Stati Uniti. Tuttavia, anche se il recupero rispetto agli anni precedenti, l'Italia non è ancora al passo della media europea. Infatti, sebbene la Commissione individui nelle risorse intellettuali e nel sistema attrattivo per la ricerca, i punti di forza del nostro sistema paese evidenzia anche le debolezze dei settori legati alle risorse umane e ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, sottolineando anche le problematiche relative al basso numero di laureati e alle scarse risorse pubblico-private disponibili per la ricerca. In questo senso, già nella bassata legislatura europea all'interno della Commissione ITRE, abbiamo lavorato, come Movimento 5 Stelle, alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, supportando quelle iniziative della Commissione che si rivolgono in primis anche allo sviluppo della blockchain, sempre mantenendo attenzione costante alla nostra sicurezza cibernetica e allo sviluppo sostenibile. Altrettanto costante è stato il nostro impegno a difesa delle piccole e medie imprese, rispetto alle quali molti paesi europei intendevano indebolire lo status giuridico, annaquando così il supporto finanziario. È evidente che l'Italia possa e debba fare di più. Nel 2019, infatti, ha visto finalmente alla luce il Fondo Innovazione, con una dotazione che per il primo anno ammonta un miliardo di euro. Tale fondo mira a portare investimenti in maniera diretta a start-up e PMI innovative, iniziando quindi un percorso che abbia come obiettivo il saper colmare quel gap di cui si parla e di cui parla la Commissione in termini di risorse pubblico-private messe in campo proprio per l'innovazione. Un tema che però non può che andare di pari passo con l'innovazione è quello della tutela e della valorizzazione dei nostri giovani, soprattutto per quello che riguarda i nostri ambienti universitari. Anzitutto l'università deve sapersi mostrare più attrattiva per le nostre giovanimenti, che, lasciatemelo dire di vero cuore, costituiscono in termini di capacità creative un unicum nel mercato dell'innovazione mondiale. Le nostre start-up infatti eccellono a livello internazionale su un fronte ampio ed eterogeneo. Sociale, sharing economy, realtà aumentata e virtuale, salute, medicina, passando anche per il settore dei media, della moda e del food. La possibilità di inventare una così ampia gamma di aziende innovative cedata dai giovani, che hanno saputo mettersi in gioco, troppo spesso però lasciati soli dalle istituzioni, nonostante le istituzioni mi verrebbe da dire. Dobbiamo invertire questo trend, mettendo le nostre università nella condizione di poter tradurre le idee dei nostri giovani in attività economiche, produttive e sostenibili. Papa Giovanni XXIII diceva che molti parlano dei giovani, ma non molti parlano ai giovani. Ecco perché, paraprasando le sue parole, mi piacerebbe dirvi che il nostro Stato debba cominciare a parlare con i giovani. I giovani imprenditori che hanno davvero il coraggio di cambiare lo status quo nei campi in cui decidono di portare all'innovazione. Rappresentano poi quella speranza di riuscire a effettuare un cambiamento radicale del nostro Paese e del nostro pianeta. Se i giovani dovessero perdere la voglia di innovare, di fare impresa, di cambiare il mondo, in quel caso penso e credo che alla fine avremmo perso tutti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento per il vostro evento di oggi. Un caro saluto è un grande incoraggiamento a non mollare.